allora visto che il mosto qua è abbastanza forte ho fatto qualche prova dietro le quinte con qualche formazione è veramente forte quindi bisogna andare avanti con questi chiediamo aiuto e magari ci potenziamo un pochettino perché sennò mi sembra veramente è troppo potente tipura allora andiamo nel mondo esterno questo qui lo lasciamo qui al momento e andiamo qui è un po piuttosto la storia ma io devo andare qua un attimo perché qui in realtà non è che abbiamo da segnare qui si abbia un altro vincolo da spezzare abbiamo due vincoli questo e questo e se no abbiamo anche da convincere questi però io volevo andare anche qui per per vedere se aveva finito le trattative di commercio perché vorrei capire anche se quella storia lì è finita e poi andare avanti che non è più passato qui si parla ancora delle elezioni di gran sovrano e quindi è un po di tempo fa però sono successe altre cose ho lasciato sta missioncina indietro diciamo una missione di di collaborazione reciproca del commercio ah con Rehull ah stanno ancora parlando ah Ma il suo vicino potrebbe anche aiutare da questo grigio. Se tu potessi convincere a noi, potremmo capire una comprensione, permettendo dei caravani a passare il suo territorio. Senza questo, credo che non potessi fare un compromesso. La pazza e il trade sono collegati. Se i nostri mercati rispondono i loro vivi, mi sono sicuro che tu potessi convincere, che non sono tutti. Posso provare, almeno. Vereda, aspettiamo qui, e speriamo che tu abbia raggiunto. Ok, praticamente è una missione un po' per spezzare il ritmo. che qua. Allora, il clan vicino. Ok. Come vedete, non è una missione che ho scelto, ma... era... cioè, mi sembrava il luogo giusto. Ovviamente adesso si deve scelterla. Eeeh... ci picchio cosa sarà di questa, adesso. E purtroppo non selezionandola, con R3. bisogna andare un po' a... a intuito. Diciamo che così, ma miglioriamo anche, per il futuro, la storia delle alleanze, che è quello che ci serve per sconfiggere Constantine. E anche per potenziarmi, perché secondo me devo potenziarmi di più. Però purtroppo a certi punti non ho ancora capito bene dove si... dove si... come si fa a ottenerli. a parte salire di livello. Allora, adesso vediamo. Eeeh... dobbiamo... Fiammeria. Ah, qui è il campo dei soldati. No, mi sa che non è qua il posto giusto. Convinci le guardie del controllo a partecipare? No. Qui. Eeeh... Aspetta. Non è neanche questo. Aspettate. Non è neanche quello. E qui c'è questo. Che porta al di là. E non è giusto neanche questo. Andiamo a andare da un'altra parte. Andiamo a scegliere un altro luogo di quella regione. Ma è il secondo. Un casino... A non avere le missioni scelte è un casino. Non è vero. l'accampamento di dig, vediamo questo, il secondo, la seconda mappa di questa zona. Purtroppo si va a tentativi, è il casino che può capire. Purtroppo si va a tentativi. Il secondo accampamento mi sembra di questa zona. Prendi questo incontro a tre, qua non compare niente. Purtroppo si va a tentativi. 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 Grazie. 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 Ah, qui allungo il percorso. No. A meno che non vado di qua, faccio il giro, no, 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 lo allungo di una vita e mezza. Scendiamo, piuttosto affrontiamo quelli. Secondo me magari anche nel combattimento contro quel mostro devo usare anche delle tecniche delle pozioni queste qua. Se mai devo utilizzare anche quelle, devo proprio utilizzare tutto quanto. Ok. Andiamo un po' a livellare. Ecco. Però... Ora no, però... mi piace quando c'è un baule incustodito. tre monete d'oro solamente. è... un po' a livellare. 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 un punto abilità un punto attributo lo mettiamo a staff automatica agilità così possiamo mettere la nostra bella spada da 320 quanto possiamo 536 insomma non dico che raddoppiamo il danno ma poco ci manca potere mentale se riusciamo a potenziarci data 20 abilità vabbè abilità un punto cosa possono sbloccare con un punto adesso che abbiamo un'arma aspetta lame lunghe infliggi più danno un punto vabbè lo spendiamo qui direi che ci facciamo un bel giro per livellare sì signore così ci alziamo di livello andiamo a scoprire sta zona che abbiamo qua tanto ci siamo qua andiamo qui sempre dritti sempre dritti sempre dritti non si può andiamo a scendere 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 da di là no si scende qua ah ma qui stiamo girando intorno praticamente dobbiamo andare dove c'erano quei mostri su quell'isolotto molto facilmente vediamo come sta spalla ma la faccia cavoli con due sciavorate ebbè è tutto un altro discorso ebbè cribbio è tutto un altro andare direi sicuramente e anche a loro devo potenziare no potenziare se troviamo in giro altri nemici potenziare non potenziare non potenziare non potenziare non potenziare oltre a loro oltre a loro vabbè qui posso stare anche là No, 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 no. Eh, sono diventato un macellaio, praticamente. Un macellaio sono diventato. Ma riscoviamo anche questo posto dove fare l'incontro del commercio. Quindi... Oh, bene, un altro punto abilità. Benvenga. 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 Credo che per affrontare il mostro, anzi, i due mostri che dobbiamo affrontare dobbiamo alzarci ancora un bel po'. Secondo i miei gusti. Bene, qui siamo... Siamo a posto. Deve da andare qua. Poi ci sono questi qui. Questi qua saranno alleati o...? Perché ho cambiato... Gli ho affettati. Ma ritroviamo anche... Vabbè... Quanti tienite le munizioni... No, adesso... Le cose che mi interessano le prendo, se no diventa un magazzino... Troppo... Troppo immenso. Se prendo proprio tutto quanto. Ed anche questo qua... 17... Le munizioni le prendiamo. Anzi, le munizioni sono più che altro per... Per... Per Afra. Chiuse a fucile. E qui? Qui piccolo cieco. Va bene. Andiamo giù. Ah sì, qua ci segna ancora perché hanno ancora quelle... Una pagina di un manoscritto di qualche studioso barra... Esploratore. Bussola re... Bussola... E-te-ro-filla. Va bene. Allora, aspetta che mi... Signo che arma... Grande sciabola. Grande sciabola. E quella che ci ha dato... E... Quello lì a Nova Seren. Il medico. Stordimento 2,40. Eh... Capacità di generare furia 14% per fare attacco furioso con L2. E... Costo attivazione furioso... Uff... 50%. Bene.